Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, ha richiesto un incontro in queste ore al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, con lo scopo di chiedere un'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco è veramente delicato e molto pesante. In alcune zone, soprattutto in Contrada Lanzagallo, si sono verificati negli ultimi tempi degli episodi veramente incresciosi, furti all'interno delle aziende, furti di bestiame, furti di macchine agricole, un clima di tensione e in certi momenti anche di violenza che non è più sopportabile. So che le forze dell'ordine e anche gli inquirenti stanno agendo con solerzia perché alcuni episodi sono episodi che meritano un'attenzione particolare dal punto di vista delle indagini e che sono in corso. Io chiederò al prefetto un incontro ma so che già il prefetto è stato allertato e le famiglie della zona hanno sporto denuncia e quindi le forze dell'ordine stanno già lavorando per cercare di normalizzare la situazione. Quindi verificheremo nei prossimi giorni attraverso questo incontro e cercheremo anche di chiedere un'intensificazione per tranquillizzare definitivamente l'intera popolazione. Quindi si sente di tranquillizzare questi imprenditori ormai che non ce la fanno più? Sì, io farò di tutto per tranquillizzarli. So che l'attenzione in questo momento rimane perché gli episodi sono episodi che sono intercorsi negli ultimi tempi frequentemente e hanno danneggiato notevolmente le aziende e danneggiato anche lo spirito delle famiglie che sono impaurite e non possono sopportare un clima del genere. Quindi è necessario che si vedano adesso i risultati di questa intensificazione delle attività delle forze dell'ordine proprio per poter dire stiamo più tranquilli e cerchiamo di collaborare e cooperare tutti insieme affinché il fenomeno sia definitivamente debellato. Una tomba parzialmente coperta dalla terra e mezzi pesanti che transitano accanto i loculi del cimitero di Scicli oggetto di importanti lavori di ampliamento. Una denuncia partita dal consigliere comunale Bruno Mirabella che su Facebook ha postato le foto affiancate da parole di rabbia e amarezza per il rispetto dei defunti. A far chiarezza adesso è il sindaco di Scicli Mario Marino che puntualizza. Le foto oggetto della polemica che in queste ore è stata alimentata in città fanno riferimento a un progetto diverso da quello dell'ampliamento del cimitero. Infatti la polemica riguarda dei lavori che sono parte di un progetto per la realizzazione di 288 loculi nel settore 18 del cimitero storico di Scicli. Mi sono accertato della situazione e mi è stato assicurato che i mezzi meccanici dell'impresa che sta svolgendo i lavori non hanno assolutamente transitato sulle aree in cui erano presenti le tombe. Questi lavori consistono nella fondazione su pali dei nuovi loculi ovvero di un tipo di interventi che richiedono mezzi meccanici nello specifico una trivella molto ingombrante ed un'area di lavoro certamente più agevole ed ampia rispetto a quella individuata nel progetto. Proprio a causa di questi movimenti al terreno bagnato e scivoloso per via delle forti piogge degli ultimi giorni e alla pendenza del terreno. Così come spiegato dagli operai presenti sul posto, un po' di terra è scivolata su parte della tomba in loco. Questa terra stamattina è stata già sistemata ed è stato ripristinato lo stato dei luoghi. Questa è la realtà dei fatti. Ora, continua il sindaco di Scicli, premesso ciò, rimaniamo abbastanza sorpresi dal polverone più politico che mediatico che è stato appositamente sollevato da parte di chi, in qualità di vice sindaco della precedente amministrazione, ci ha lasciato questi lavori in eredità. Il sottoscritto, l'assessore Giannone dell'intera giunta, siamo vicini ai lavoratori dell'impresa che sta realizzando i loculi e riteniamo utile alla collettività che lo sforzo della politica tutta debba essere teso alla responsabilità e alla concretezza, così come dimostrato dalla nostra squadra e dagli uffici comunali con l'approvazione del progetto per l'ampliamento del cimitero, un'opera pubblica necessaria e non più rinviabile, che grazie al mutuo accesso con cassa, depositi e prestiti permetterà alle famiglie ciclitane di poter dare una degna sistemazione ai propri cari. Legge su Ibla, nuovamente a rischio. A sollevare la questione è stato ieri il Partito Democratico, per voce del deputato Ibleonello Di Pasquale, del segretario cittadino Peppe Calabrese, che prometteva anche barricate a difesa della storica legge 6181, Partito Democratico che ha anche specificato come un ampliamento di tale legge estesa da altri comuni potrebbe portare a tagli economici ingenti proprio su Ibla. Lo stesso rappresentante Demme nel proprio comunicato ha anche chiamato in causa il sindaco Peppe Cassì che ha replicato qualche ora dopo. Eliminare la legge speciale su Ibla ha affermato quindi Cassì come quella per Ortigia e Agrigento, a favore di un'unica norma di finanziamento per tutti i comuni Unesco, è un errore perché non considera le specificità dei territori e gli obiettivi mirati delle leggi speciali, che come nel caso della 6181, sono di molto antecedenti al riconoscimento Unesco. In questi anni Ibla, Ortigia e Agrigento hanno saputo dimostrarsi volando di intere aree. Benvenga quindi una legge Unesco che sostenga diversi comuni, ma non a discapito di chi ha dimostrato di saper valorizzare il proprio patrimonio anche nell'interesse di tutta l'isola. Ad intervenire a stretto giro di posta anche il deputato regionale Inazio Abate, che presenta un nuovo emendamento, già oggi in discussione in commissione bilancio, mirato a chiedere più fondi per i centri storici di Ibla, Ortigia e Agrigento e la creazione di uno stanziamento dedicato esclusivamente ai comuni riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. L'emendamento specifica Abate prevede un aumento da un milione e mezzo di euro a due milioni da ricavare non più dal fondo di trasferimento di parti corrente, ma dal fondo di sviluppo e coesione. Automaticamente, usufruendo di questo contributo ad hoc, i tre centri non comparirebbero nella lista dei finanziamenti destinati ai comuni UNESCO. Quest'ultimo emendamento è già passato in prima commissione affari istituzionali e prevede la creazione di un capitolo di spesa da 20 milioni di euro dal medesimo fondo europeo di sviluppo e coesione, comprendo le ragioni del governo regionale di voler distribuire trasferimenti a tutti i comuni a costo di cancellare i benefici delle leggi speciali, commenta Abate, nell'ottica di una più capillare distribuzione delle risorse. Però, insieme al collega Pace, ci siamo mossi affinché questa scelta rappresenti un'ulteriore possibilità di crescita sia per i tre centri in questione che per tutti i comuni che rappresentano la Sicilia nella prestigiosa lista stilata dall'UNESCO. E' stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani a Marina di Ragusa, tratto da Punta di Mola allo scalo trapanese. Si tratta di un intervento di potenziamento e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale con la realizzazione, dichiara il sindaco Peppe Cassì, della pista ciclabile da Piazza Malta alla riserva e con la riqualificazione in corso del lungomare e con questo intervento, ecco che il litorale viene così valorizzato. Viviamo in un territorio tra i più belli e prendercene cure ed aumentare il suo valore vuol dire migliorare la vivibilità della nostra città ma anche renderla più attrattiva e conclude generare nuove economie. L'intervento, spiega invece l'assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, permetterà di rivalutare ulteriormente l'area e di risolvere il problema di sicurezza dovuto alla commissione di ciclisti e pedoni sull'attuale pista ciclopedonale. Con questa opera sarà infatti mantenuta la pista ciclabile, mentre l'attuale percorso pedonale e il bastione diventeranno una fascia divisoria con verde e panchine. La passeggiata sarà infatti realizzata con una passerella che andrà a risolvere gli attuali problemi di degrado. Gli alberi presenti saranno preservati dalle scale e consentiranno l'accesso al mare. Ed intanto dal PD arriva una nota in cui si ribadisce che la paternità del progetto, o meglio l'idea, è da attribuire a Nello Di Pasquale, allora sindaco della città, e che l'amministrazione attuale ha dato continuità a questo progetto. Non dimentichiamo, ha dichiarato Mario Cavola, capogruppo del PD al Consiglio Comunale, che è stato Nello Di Pasquale ad avviare questo percorso progettuale e ad avere la lungimiranza di ripensare la frazione in questo senso. È opportuno ricordare che senza quindi l'intervento di Di Pasquale, a quel tempo sindaco, non sarebbe mai stata avviata la profonda rivisitazione della frazione che oggi ha visto così crescere la propria economia anche grazie a questi interventi. È stata siglata una convenzione tra il Consorzio Universitario della provincia di Ragusa e la FEDESPEDI, la Federazione Nazionale delle Imprese e di Spedizioni Internazionali, proprio per favorire le imprese agroalimentari del nostro territorio. Il progetto costituisce una parte del lavoro che mira ad avvicinare sempre di più gli aspetti del settore con imprenditori ma anche con le associazioni di categoria. La firma della convenzione è stata sottoscritta all'interno della sede del Consorzio Universitario a Ragusa. Vogliamo, ha dichiarato Alberto Cozzo, presidente dell'Associazione Siciliano Operatori Logistica, vuole creare cultura nel territorio con lo scopo di unire le forze. Deve essere potenziata infatti la rete con ricadute positive che andranno a tutti. Si tratta, ha invece spiegato Pinuccio Lavima, presidente del CUI, il Consorzio Universitario Ibleo, di uno strumento a disposizione delle imprese che si somma, per l'altro, a quelli già presenti e legati al mondo universitario, come ad esempio la collaborazione per la formazione specialistica, per cui saranno anche rese disponibili delle borse di studio. Sarà anche data la possibilità di aderire a progetti internazionali che non possono che avvantaggiare il settore in questione. L'iniziativa è infatti stata valutata positivamente sia dagli operatori che dai rappresentanti di categoria. Quella in questione, tra l'altro, è il settore trainante per l'economia del territorio, che necessita chiaramente di aiuti a sostegno a vantaggio non soltanto degli imprenditori, ma come forma di tutele delle eccellenze agroalimentari del territorio.